Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 direzione Firenze Coda tra Aglio e Calenzano. Verso Bologna, rallentamenti tra Bivio Complanare Firenze Nord A11 e Bivio Variante di Valico. In direzione Roma, traffico rallentato tra Valdarno e Arezzo. In Filippili verso Livorno, per lavori e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra Corre e Strincimenti. Percorse alternative sulla provinciale 12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada A11. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Moersi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio!